Ciao ragazze, nuovo video, nuova recensione, oggi parliamo di accessori, con un'azienda con cui io ho avuto il piacere già in passato di collaborare e ora mi hanno concesso una seconda collaborazione dove io questa volta ho potuto scegliere alcuni oggettini carini Allora, l'azienda di cui vi sto parlando è la Born Pretty Store, che sarebbe un'azienda che ha un sito dove si possono fare acquisti online di ogni genere quindi ci sono collane, bracciali, orecchini, accessori, ma anche accessori per capelli, per unghie, pennelli, trucchi, veramente di tutto di più ed è un'azienda cinese che spedisce ovviamente in tutto il mondo Allora, la prima volta con cui io ho collaborato con loro mi hanno spedito tre collane che erano delle collane standard, in che senso? Erano quelle che inviavano tutte le blogger poi, piaciuta la mia recensione e vedendo che tramite il blog, perché c'è comunque un codice per lo sconto hanno visto che comunque la collaborazione è andata bene e mi hanno concesso una seconda collaborazione dove però questa volta mi hanno dato 20 dollari a disposizione per poter spendere sul loro sito e io ho comprato tre collane, allora la prima è questa qua, faccio vedere color bronzo, questo è il filo, con tutti questi pendenti appuntiti poi la seconda è questa qua rosa, è azzurra, color oro e la terza è questa, questa qua la trovate anche sul loro sito come immagine principale del loro sito questa è davanti, eccola qua tutti questi pendenti tipo talismani allora, questa la trovate ad un prezzo di 6,37 euro perché se poi cliccate sul sito vedete che ci sono tutti i prezzi per esempio dollari, euro, così come tutte le lingue possibili tranne l'italiano ovviamente, però non c'è problema perché comunque c'è il google traduttore poi trovate questa qua invece l'ho presa a 1,81 euro e questa invece ha 1,98 euro ovviamente poi io posterò tutti i link utili dove poter trovare gli oggetti allora, queste collane, a dire il vero, anche con quelle precedenti non ho avuto alcun problema, anzi non si sono né scurite né si sono rovinate purtroppo però i tempi di spedizione sono un po' lunghi la prima volta loro mi avevano chiesto anzi mi avevano detto perché io non avessi parlato dei loro tempi di spedizione ora non so se sia un bene o sia un male ma questa volta ve lo dico ci vogliono intorno ai 40 giorni se non qualcosa in più per ricevere il pacchetto quindi se avete una necessità di fare un regalo che prevenitevi perché comunque ci vuole un bel po' di tempo ovviamente arrivando dall'altro lato del mondo da un lato è giusto e da un lato ovviamente non sempre è comodo però diciamo oltre a questo comunque loro accettano qualsiasi carta di credito la post pay quindi è accettata ovunque e quindi comunque diciamo fare acquisti online io sto scoprendo questo mondo perché è un po' di tempo che diciamo sto iniziando ad acquistare qualcosina infatti ho acquistato anche su Wish poi quando arriverà ve lo farò vedere gli acquisti online sono molto molto semplici da fare e carini però bisogna fare attenzione perché alcuni siti dimostrano delle cose e poi ve ne mandano degli altri ovviamente la Borpretty Store non fa questo perché comunque l'immagine era reale delle mie collane ed è arrivato questo quindi l'unica pecca sono comunque i tempi di spedizione un po' lunghi ovviamente io ho fatto già delle foto che vi mostrerò sul blog e poi sulla pagina ci saranno comunque degli outfit come sempre io ho girato questo video perché volevo farvi vedere in anteprima più o meno quello che io avevo preso e vi invito ovviamente a fare un giro sul loro sito quindi borprettystore.com ovviamente vi invito a seguire la mia pagina il mio canale youtube e il mio blog e spero di esservi stata utile e spero che poi gli outfit e le foto che ho fatto con le collane vi piaceranno vi mando un bacio a presto ciao ciao